eccoci qua al locale 21 grammi a brescia via l'italia 13b bellissimo locale cosa succederà tu chi sei innanzitutto riccardo ciao riccardo matteo matteo cosa fate qua al 21 grammi siamo camerieri di sala camerieri di sala complimenti ma dietro di voi c'è il primo chef lorenzo ciao lorenzo e cristian e cristian grandi chef qui al 21 grammi giusi cosa succede al 21 grammi ottobre ciao a tutti l'8 di ottobre ci sarà la serata risi e sorrisi alle 7 45 19 45 vi aspettiamo vi aspettiamo e cosa ci dobbiamo ringraziare cioè siamo caldamente gli sponsor azienda agricola carioni e agroittica lombarda e anche riso gallo riso gallo che è e faremo delle magie chef che forniranno dei prodotti con le quali prepareremo qualcosa di speciale vi aspettiamo numerosi quindi vi aspettiamo tutti a cena davvero ci aspettiamo tutti e anche sono i denti benissimo e anche sorridenti risi e sorrisi e buona vi aspettiamo ciao 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 ciao